Marco mi chiede, durante i saldi non so mai come organizzare la nuova collezione, dove collocarla e come collocarla, mi puoi dare dei consigli? Beh innanzitutto nel momento in cui andiamo a fare un allestimento della nuova collezione durante i saldi devo dividere il negozio in due parti una parte dove vado a esporre i saldi e quindi lo farò nella parte destra e nella zona centrale creando un display e la parte invece di sinistra dove andrò a esporre la nuova collezione la segnalerò con una cartellonistica in A3 o in A4 scrivendo appunto nuova collezione e andrò a esporre proprio come sempre, quindi utilizzando gli stessi canoni di visual che utilizzo durante l'anno quindi posso andare a creare dei gruppi, dei gruppi di scarpe mettendole insieme per tipologia e poi posso andare a creare del cross merchandising e quindi ad unire ad esempio una borsa, un portafoglio e una scarpa per dare delle idee ai clienti di pacchetti, di prodotti, capi e accessori che possono acquistare tutti insieme